Un convegno dal titolo Bonifiche, l'attualità di una storia antica. Di cosa parlerete in questo convegno sabato 22? La bonifica, e sarà il tema ovviamente il fil rouge che leggerà tutta la mattinata. Perché bonifiche? Le bonifiche sono state quelle operazioni storiche e quelle continuo di operazioni nel corso della storia, nei nostri tempi compresi, che ci consentono di vivere in un territorio relativamente sicuro. Quindi parleremo delle origini e anche del mantenimento della situazione attuale. Tutte quelle opere che non si notano, o si notano poco, ma che ci consentono appunto di avere un territorio posto a riparo da rischi idrogeologici. Ecco, si parla di attualità, di una storia antica. L'importanza oggi delle bonifiche? L'importanza delle bonifiche è quella di favorire la sicurezza innanzitutto idraulica dei territori, perché non ci sarebbero insediamenti industriali, non ci sarebbero insediamenti agricoli e produttivi nel territorio polesano se non ci fossero state le bonifiche. C'è anche un fenomeno proprio di antropizzazione dei territori favorito in generale dal sistema delle bonifiche. E soprattutto non ci sarebbe la popolazione che c'è oggi nella nostra terra se le bonifiche non fossero state fatte. Soprattutto dopo il 1951, tristemente noto per l'alluvione del Po. Ecco, durante il convegno parleranno quindi i consorzi di bonifica, forniranno alcuni dati? Sì, ci sarà il dottor Carlo Piombo, ex direttore generale del consorzio di bonifica Polesine Adige Canal Bianco, memoria storica della bonifica in Polesine, grande esperto della materia, che darà anche dati certi su quello che è l'andamento delle bonifiche in termini di investimenti, in termini di lavori che continuano ad essere fatti e devono essere fatti. Perché l'illusione di essere tranquilli perché tutto è a posto è più illusione, rimane tale. La bonifica è molto importante per ciò che riguarda non solo la nostra terra ma in particolare la nostra. E quindi quando andiamo nelle scuole con il progetto, come ha detto il console, il progetto scuola-lavoro, parliamo di queste cose anche perché i ragazzi devono sapere perché oggi ci sono strade, ci sono belle strade, belle case, ma questo è dovuto al fatto che qualche tempo fa, 50 anni, 60 anni fa, queste cose non c'erano. Quindi questo è molto importante. Quindi pensiamo anche, per tenere allerta un po' il nostro pensiero, non solo nostro ma anche della politica, che non dobbiamo essere soddisfatti di quello che è stato fatto, però dobbiamo sempre avere in mente questo, da dove siamo partiti e dove vogliamo andare. La sicurezza non solo idraulica ma anche del territorio è molto importante, quindi mi pare che sia anche di attualità. E quindi questo è il motivo per cui noi non solo parliamo con i ragazzi nelle scuole, ma facciamo questo convegno a livello regionale perché riteniamo che il progetto totale della bonifica non sia solo per il Polesimo, ma riguarda tutto il Veneto in particolare. E per ciò che succede in giro, mi pare che anche a livello Italia il problema si ponga in maniera molto pesante e molto seria. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.